Sono a presentare il bilancio Rendiconto 2009, un bilancio che ha visto la nostra amministrazione prendere in corsa le redini del gioco e intervenire per portare avanti le nostre priorità e per seguire le nostre finalità. Devo dire che abbiamo trovato una macchina comunale veramente disposta a seguirci e a cercare di dare gambe al nostro progetto. Tutto questo ovviamente ha fatto sì che alcuni risultati siano già stati raggiunti e altri ancora non del tutto definitivamente, ma vedremo nei dati di bilancio che questo si ripercuote anche sulla chiusura del 2009 che ha dei dati confortanti per la prospettiva della nostra amministrazione. dei dati invece leggermente più preoccupanti che ci richiederanno di intervenire in corsa. Partiamo dal concetto che viene fuori dall'avanzo di amministrazione più eclatante, l'avanzo di amministrazione 2009. L'avanzo di amministrazione 2009 è di 6.639.000 come vediamo qui nei dati e possiamo vedere un raffronto coi vari anni, quindi 2009, 2008 e 2007. Il raffronto che vediamo anche qui sulla mia sinistra è un raffronto che vede questo avanzo di amministrazione crescere ogni anno. Nelle giunte precedenti questo dato è andato fuori ogni controllo perché se nel 2007 ammontava a 4.391.000, nel 2008 5.114.000, nel 2009 arriviamo a 6.639.000 euro di avanzo. Pensiamo a 13 miliardi delle vecchie lire, questo fa proimpressione, quei soldi che teoricamente sono in cassa e il comune non può utilizzare. Questo è quello che viene in mente al comune cittadino che grida al tesoretto e allo scandalo. In realtà andando a vedere le cifre nel dettaglio non è così. Infatti vediamo che nel 2009, quindi il bilancio che non era il nostro il bilancio 2009 ma ce lo siamo trovati in corsa, abbiamo fatto delle rettifiche, l'avanzo di amministrazione è cresciuto di un milione di euro anche a seguito di errori di programmazione a cui noi siamo intervenuti per cercare di dare risposta e questo avanzo di amministrazione è così composto nei vari dettagli. Ma soltanto una quota a parte è utilizzabile di questo avanzo di amministrazione, quindi noi siamo un'amministrazione che sebbene dai numeri abbiamo una possibilità di investimento notevole, nella realtà dei fatti soltanto un terzo o addirittura un quarto di questo avanzo di amministrazione è effettivamente spendibile. Ma poi effettivamente spendibile vediamo non è perché ci sono degli ulteriori limiti legati al patto di stabilità che noi rispettiamo nel 2009, questo è un virtuosismo della nostra amministrazione ma paradossalmente ci impedisce di svilupparsi, di spendere soldi che abbiamo in cassa e quindi un meccanismo veramente difficile da comprendere e da capire, però che permette al governo centrale di controllare la spesa degli enti locali, ma agli enti locali di non fare quegli investimenti di cui le città, i borghi e le periferie avrebbero bisogno e purtroppo siamo fermi e impossibilitati a farlo per i limiti e il coefficiente del patto di stabilità. Ora vediamo di questi 6 milioni 6,39 quanti sono effettivamente spendibili quest'anno, quasi 4 milioni purtroppo sono vincolati e non spendibili, però intorno ai 2 milioni e mezzo abbiamo la possibilità di dare spazio, di dare gambe come dicevo nell'introduzione ai nostri progetti, a quello che abbiamo definito essere il progetto Bellandi per una nuova città, una città migliore che parte dalle piccole cose per sviluppare le infrastrutture importanti ma solo quelle per cambiare la città. Vogliamo cambiare la città partendo dal basso, seguendo anche quelle che sono le indicazioni e suggerimenti dei cittadini. Altri dati importanti che voglio portare alla vostra attenzione e anche alla conoscenza di tutta la città è che noi abbiamo in cassa, proprio nella tesoreria del comune, una cifra incredibile, non fruttifera, quindi che non genera interessi attivi per il nostro comune per euro 7 milioni e 696 mila euro, è un fondo cassa. Noi abbiamo alla tesoreria della Banca d'Italia questi soldi che non generano interessi. È la cosa più negativa, forse più strana, con cui mi sono trovato ad agire, ad operare nei primi mesi della mia attività da assessore al bilancio. È stato fatto un grande lavoro dall'ufficio ragioneria, dai sindaci revisori per capire la natura e le caratteristiche di questo fondo e lo vediamo anche in relazione agli altri anni, perché come si vede qui sempre alla mia sinistra, nel 2008 avevamo 7 milioni 244 mila e nel 2007 4 milioni 978 mila. Quindi anche se questi soldi non sono fruttiferi, sono soldi che ci sono e purtroppo non sono spendibili dalla nostra grande famiglia che vive la realtà di Montecatini Terme. Dovremo trovare dei meccanismi virtuosi per riuscire a incrementare il potenziale di spesa del nostro comune. Per non essere troppo noioso e cercare comunque di essere delucidativo delle cose importanti da sottolineare in questa sede, voglio far capire quali sono i punti di forza e i punti di riedevolezza di questo rendiconto 2009. Partiamo dai punti di forza, sono sicuramente, come ho già detto, il rispetto del patto di stabilità, la riduzione nel 2009 di investimenti con l'indebitamento bancario, infatti in questa tabella che potete vedere qua sempre a sinistra, potete vedere che l'indebitamento bancario del nostro comune nonostante sia abbastanza rivido negli anni, è andato a diminuire e questo è un meccanismo virtuoso che riducendo l'indebitamento si riducono anche gli interessi passivi e questo è una cosa che nel lungo termine comporta un miglioramento della situazione economica finanziaria del comune di Montecatini e questo per noi è un sinonimo di sana gestione. Infatti vediamo che se nel 2007 e 2008 avevamo un indebitamento abbastanza importante che si attestava a cifre importanti, vediamo che nel 2007 c'era 800 mila euro di indebitamento, nel 2008 quasi 300 mila euro di indebitamento e nel 2006 addirittura un milione e mezzo di euro di indebitamento ma legato alle terme che noi in quel tempo consideravamo virtuoso. Nel 2009 quindi questo rendiconto attesta un indebitamento con mutui pari a zero e nel 2010 abbiamo intenzione di mantenere questo indebitamento ai minimi storici per far sì che questo miglioramento di cassa, miglioramento dei conti ci permette uno sviluppo futuro. Andando avanti nei punti positivi e virtuosi del rendiconto 2009 devo sottolineare con grande euforia e con grande entusiasmo la lotta all'evasione grazie all'ufficio tributi, all'ufficio ragioneria abbiamo portato i risultati alle entrate extratributari e tributarie a dei risultati sperati che ci hanno permesso di introitare maggiori incassi rispetto a quanto previsto e questo è soltanto un fattore positivo che ci permette di far rispettare le regole e di auspicare che in futuro si ottengano ancora migliori risultati. Per quanto riguarda i dati negativi, i punti critici su cui la nostra amministrazione è intenzionata di intervenire con forza sono fondamentalmente tre. Il primo un fondo svalutazione crediti da cui dipende moltissimo questo grande avanzo di amministrazione non spendibile legato anche all'incapacità del nostro comune di intervenire in maniera forte e decisa per riscuotere dei crediti che effettivamente sono in bilancio ma non riusciamo a riscuotere. Il secondo elemento di criticità è la gestione dei residui passivi. Anche qui c'è un corso, un'indagine della Corte dei Conti sul passato e sul presente ci ha segnalato che dobbiamo intervenire per far sì che i residui passivi ovvero tutto quello che ci portiamo dietro in bilancio di anno in anno venga ridotto quindi che genera rigidità dobbiamo abbattere questa rigidità di bilancio e interverremo. Ultimo ma forse più importante per il cittadino e per tutti noi è il fatto di non riuscire a spendere quei soldi che abbiamo in cassa in investimenti, investimenti per la città, investimenti strade, marciapiedi, opere pubbliche, cemiteri. Abbiamo bisogno di quei soldi per portare avanti una politica di sviluppo delle opere pubbliche. Questo purtroppo è difficile per colpa delle regole della finanza locale. Noi vogliamo sbloccare questi fondi e intervenire nei prossimi anni nella direzione di agevolare tutto quelli che sono i piccoli investimenti destinando poi una parte di queste risorse all'infrastruttura Lazzi che sarà la risorsa e l'infrastruttura per il nostro futuro prossimo.